Un gruppo di 26 esperti internazionali di relazioni industriali e dell'impiego provenienti dai 5 continenti hanno preso parte il 1 marzo a un incontro a Palazzo Lascaris per conoscere il funzionamento del sistema regionale. Il presidente del consiglio regionale ha portato i saluti dell'assemblea. All'incontro hanno partecipato anche Gianna Pentenero, assessora al lavoro, Alberto Anselmo dell'ufficio gestioni crisi aziendali della regione Piemonte e Anna Akena dell'area agevolazioni e strumenti finanziari di Finpiemonte.